Vai, 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 dentro, lasciano, se non viene verde, vai, vai, cammina, vai, cammina, lasciano, Giulio, Giulio, lasciano, vai, cammina, cammina, vuol vedere che fai? Vinhentos non è vero 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 vuole da comodoro? si ora ci accogliamo no 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 che modera che modera è comodoro hey 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 che stava la mamma sembra mamma che non ci vuoi che bello no no lui è il fratello di noi ma come è che devo mangiare ma è veramente ah non mi perdono adesso non per amici 2 metri 2 metri 2 metri ma non si trova tutta la merda togliate tutta la merda e poi un roccolato e poi un roccolato in quella perla non è vero non è vero ah papà mi aiuti a mettere il mio braccio destro poi te lo mando in video margò ciao 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 margò guarda la telecamera margò margò guarda la telecamera margò guarda la telecamera lì per lì per lì per lì il video per l'altro sarà un po' migliore che cazzo vuol dire ora c'è la caccia ci siamo fatti guarda la telecamera Pedro, 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 adesso farò il video Horus e il suo amore, adesso farò il video Lord Scott Indon Arias io lo chiamo Lord Scott Indon Arias Già il videopetro l'ho fatto ho caricato, siamo uno scorso, abbiamo fatto il game